secondo segnale che viene convalidato con unica che è la più veloce nella giravolta nei confronti di una di maggio uruk del ronco urogallo getta all'esterno poi dall errore per uruk del ronco sulla prima curva e allora uruk allo getta passa terzo nei confronti di ufo robu hp che è stato il più veloce tra i penalizzati a precedere unbelievable as poi ancora ubico e par e in coda unicus primo quarto abbastanza sollecito da parte di unica con dario battistini ma ora muove deciso dalla terza posizione uruk allo getta che punta in avanti cerca di andare in caccia della battistrada che il primo quarto con partenza da fermo lo ha trottato in 36 ma uruk allo getta sbaglia come la volta scorsa su lungo l'arco della curva di sinistra e allora unica e libera di comandare il mezzo miglio comunque in un minuto e cinque decimi si viaggia sul piede dell'uno e 16 scarso con partenza da fermo in seconda posizione una di maggio davanti a ufo robu hp ambilibola s ubico e par e unicus situazione che non muta all'attacco della penultima curva con unica sempre leader su una di maggio ufo robu hp ambilibola s ubico e par e unicus ad inseguire invece uruk del ronco sestetto dei primi sempre in fila indiana con serie di mosse con ufo robu hp che anticipa ambilibola s a sua volta prevenuto da una di maggio ma poi una di maggio torna in corda perché unica continua a comandare una di maggio la si affaccia con maggior decisione sempre in anticipo su foro boe ambilibola s ha guadagnato posizioni di dentro ubico e par mentre una di maggio va cattiva all'attacco di unica quando siamo ai 300 finali e sopra avanza l'avversaria per l'interno e cerca spazio ubico e par con all'esterno ufo robu hp poi ambilibola s si getta di galoppo unica è passata chiaramente una di maggio nei confronti di ubico e par che trova spazio all'interno ambilibola s che sta finendo bene a centro pista ma sembra imprendibile una di maggio che si mantiene bene avanti agli altri vince una di maggio su ambilibola s che batte ubico con ufo robu hp al quarto posto 256 l'arrivo ufficioso della sesta di capannelle sul mio cronometro 232 per quanto riguarda lo start per gli ultimi 2000 metri e quindi siamo nell'ordine dell'1 e 15 appena abbondante per l'allieva di gennaro casillo i colori quelli di luigi lettieri la figlia di leto che che ha usufruito dell'ottima scia della battistrada unica per poi attaccare ai 600 finali passare e vince direttamente sulla penalizzata ambilibola s che precede l'altra penalizzata l'altro penalizzato ubico e par a a a a Grazie.